Ecco grande il piacere che abbiamo oggi l'onore di ospitare la nipote di una grandissima italiana, lei è Larita Levi Montalcini e con noi Piera Levi Montalcini. Che piacere, grazie davvero. Whitney Houston, ci diamo del tu, no? Ci diamo del tu, sì. Whitney Houston l'hai scelta tu? Sì. Ma che meraviglia, perché ti piace Whitney Houston? Perché ha una voce stupenda e perché io non so cantare, quindi sono invidiosissima di tutti quelli che sono capaci di cantare. Sappi che Luca ci ha lavorato a lungo con Whitney Houston, per cui se poi vuoi avere qualche racconto... Perfetto, io l'ho vista alle Olimpiadi a Torino quando è venuta e quindi è una grande artista. È vero, una donna anche molto infelice purtroppo. Collegato con noi c'è anche Alberto Cappio, curatore dell'archivio Levi Montalcini. In libreria c'è questo, un sogno al microscopio, il viaggio verso il Nobel di Rita Levi Montalcini. Chi era Rita per te, tua zia? Come la definiresti con qualche aggettivo? Era la zia d'America per noi, era la zia che quando noi eravamo piccoli ci mandava degli enormi pacchi di regali americani, quei giochi che qui in Italia ancora non c'erano. Era subito dopo la guerra, io sono nata nel 1946, quindi i primi anni lei è andata in America nel 1947. E per Natale ci mandava degli enormi pacchi con i giochi che già in America esistevano, come le macchinine che si ricaricavano, le bambole di gomma che qui erano ancora di ceramica. E ricordiamo che lei è stata l'unica donna italiana ad aver vinto un premio Nobel nelle materie scientifiche. Ve lo aspettavate? Direi forse di sì, perché mio padre... Come noi si aspetta, allora aspettava il Nobel. No, noi era tanto che si aspettava, perché quando è arrivato il primo articolo in cui si parlava della sua scoperta e del grande congresso in cui lei aveva annunciato la sua scoperta, papà girava per casa con questo ritaglio di giornale dicendo Rita sicuramente avrà il Nobel. Poi sono passati un mucchio di anni, ce ne eravamo quasi dimenticati. E invece poi è arrivato, perché faccio il quadro familiare, Piera qui presente è figlia di Gino, uno dei quattro fratelli Levi Montalcini, Rita aveva una gemella e poi c'era Zianina, Anna Dettanina. La vediamo adesso qua a Rita a parlare del Nobel nel 1986. In quel meraviglioso e semisconosciuto mondo che è il corpo e il cervello dell'uomo, Rita Levi Montalcini ha individuato un fattore molto importante, questa sigla Nerve Growth Factor. Una sequenza di aminoacidi piccola, abbastanza breve, che è prodotta da tutte le cellule dei vertebrati e agisce su certi determinati stipiti di cielo nervoso. All'inizio si riteneva che solo due stipiti rispondessero, oggi sappiamo quasi tutti, un gran numero di cellule nervose anche dal sistema nervoso centrale rispondono a questo fattore. Questa è l'importanza della scoperta dell'NGF. Donna peraltro di grandissima eleganza alla quale somigli, lei è anche accompagnata ad andare a Soccolma. Sì, l'ho accompagnata insieme alle mie figlie, a mia madre, l'abbiamo accompagnata su in questa avventura che è durata parecchi giorni perché si partiva quasi una settimana prima per tutti i preparativi e poi la grande cerimonia finale con la cena con i reali e soprattutto tutte queste sequenze di convegni, congressi, appuntamenti di incontro con l'autorità è stata una cosa indimenticabile ovviamente. Ovviamente, questo libro è un libro dedicato alle ragazze, ai ragazzi, perché si racconta, sono le lettere che la famiglia Levi Montalcini scriveva al papà che lavorava a Bari e quindi c'è anche una rita bambina, una rita bambina che ad esempio prese cinque in scienze. Eh beh, sì, capita. Premi Nobel non si nasce. No, Premi Nobel non si lascia. Questo libro nasce proprio con l'idea di far capire ai ragazzi che bisogna sempre lottare, andare avanti, cercare di capirsi, cercare di scoprirsi, cercare di capire qual è l'aspirazione che uno ha dentro e qual è il suo talento, perché in fondo Zia Rita è stata l'ultima della famiglia a scoprire il proprio talento. Papà e Zia Paola erano fortemente artistici, avevano una vena di creatività nel settore artistico, mentre la Zia questa vena di creatività l'ha poi portata all'inizio. E peraltro come nelle famiglie, come nelle famiglie di una volta, le ragazze diciamo dovevano essere educate per diventare delle moglie e delle madri, no? Sì e no, nel senso che il nonno aveva già delle sorelle laureate e proprio per il fatto di vedere che le sue sorelle non riuscivano a inserirsi nella società di quel tempo, pensava che per le sue figlie non fosse ancora l'epoca di laurearsi e di lavorare. Il cammino delle donne è stato lungo, lungo, lungo e non è finito. E non è finito, peraltro Piero è un ingegnere, quindi complimenti. Ma è vero che ti portò Rita al CNR, ti fece vedere un embrione di pollo? Sì, cercò di farmi vedere un embrione di pollo. Mi hanno messa davanti a un microscopio elettronico, quindi ho pronto quello che aveva lei da ragazza, una bomba di microscopio, ma io quell'embrione proprio non sono riuscita a vederlo. Però sono stata confortata da un'aiutante della zia che passando vicino mi ha detto non si preoccupi, l'unica che vede gli embrioni su cui lavora è sua figlia zia. Noi vediamo il risultato, però non sappiamo come fa a farlo. Ti ha sollevato. E la cosa più divertente di quell'esperienza era che visto sotto il microscopio i due spilli da sarta che la zia aveva limato per fare dei bisturi sembravano dei veri bisturi, invece erano degli spilli, quelli che si usano per fissare l'orlo. E certo, tutto ingrandito. Tutto ingrandito, ma lei li sapeva lavorare in maniera corretta. Piero ha viaggiato molto anche con zia Rita, perché vi siete incontrate quando tu avevi 18 anni. Ma è vero che in aereo ripeteva le poesie a memoria, così impariva e allenava la mente? Sempre, sempre recitava delle poesie che io non sapevo neanche che esistessero. Cioè, tipo a igreggio e cose, il forte animo accendono le urne dei forti. Lei le sapeva tutte. E incominciava, poi ogni tanto si bloccava e mi diceva, e ad è come continua? E io manco sapevo cos'era, quindi ci facevo delle figuracce tremende. E poi devo dire che io non ho la memoria che aveva lei. Lei aveva una memoria straordinaria. Quando incontrava delle persone, chiedeva loro come si chiamavano i figli e la volta dopo se ne ricordava. Si ricordava a memoria tutti i numeri di telefono, bastava dirglieli una volta sola. Una cosa veramente al di sopra della norma, decisamente. Esiste il genio? Esiste una capacità mentale che molti non hanno, anche perché forse non l'esercitano. E quindi il fatto di recitare le poesie a memoria era un modo per tenere allevata, allenata la memoria. E infatti ai bambini una volta si insegnavano le poesie a memoria. La fiction è interpretata da Elena Sofia Ricci, su Ritalia di Montalcini. La storia è la storia di Montalcini. La storia è la storia di Montalcini. La storia è la storia di Montalcini. Elena è stata bravissima, quindi ha reso molto bene l'idea e mi sembra che sia un film che ha reso riuscito. Ma ci hai portato la penna di zia? Sì, la penna con cui firmava tutti gli autografi negli ultimi tempi. Lo portava nell'astuccio degli occhiali e poi quando doveva fare un autografo doveva scrivere qualcosa. Gli autografo, giustamente con un'eleganza assoluta. Gli autografo che era sempre con lei. Lei era un'eleganza assoluta, una donna anche molto femminile al mostrarsi. Ci teneva l'eleganza e c'era un tocco di... dove era la sua civetteria? Ma direi un po' in tutto. Eh sì, diciamo. Un po' in tutto. Ci teneva moltissimo la pettinatura, quindi era molto molto curata. E sui vestiti aveva una capacità di abbinamento dei colori, anche degli accessori, le scarpe, le borse. Facevate shopping insieme mai? Ogni tanto sì, ogni tanto andavamo per Roma a comprare qualcosa. Lei non ha avuto figli, no? Non si è mai sposata, si è dedicata sempre e solo al suo lavoro. Era in qualche modo un po' mamma con te? Cioè accoglieva le tue confidenze? Ti ha mai fatto qualche confidenza personale? Non so, sentimenti, amicizie? Le mie confidenze sì, certo che le accoglieva. Lei ne faceva molto poche. Devo dire che in famiglia, soprattutto dalla parte... Papà era la persona più affettuosa di questo mondo. Quindi non ti mancava la figura di riferimento. No, papà era uno molto proprio anche fisico, nel senso che ti dava i coccoli, ti prendeva in braccio. La sua mamma e la zia Rita erano un po' meno espansive in un certo senso. E Alberto Cappio, il curatore dell'archivio di Riterario di Montalcino, che ha contribuito insieme a Piera a scrivere anche a Nicolotta Bortolotti, che l'ha reso adatto alle ragazze, ha l'IC davanti a sé, il microscopio di Rita Levi Montalcini. Buon pomeriggio, Serena. Sì, è proprio lui, il microscopio, che non a caso abbiamo anche reso protagonista nel titolo del nostro libro. Fa un po' effetto, io voglio ringraziare, visto che di solito sono insieme a Piera, vorrei ringraziare Piera perché grazie a Piera, l'archivio della famiglia Levi Montalcini, che è ricco di oggetti, di lettere, di documenti, questo ne è un esempio. Confesso che quando qua nella sede di Torino della RAI i colleghi hanno visto il microscopio si sono emozionati, quindi quello che vorremmo trasferire, quello su cui stiamo lavorando insieme a Piera, insieme a un grande gruppo di professionisti e di volontari, è come trasformare un archivio, un oggetto del passato che è stato così importante per Rita in qualcosa che possa essere da stimolo per i ragazzi. Questa è una grande sfida, tant'è che nel libro abbiamo cercato di trasferire le emozioni che vivevano Rita e i suoi fratelli utilizzando le lettere. Questa è una delle caratteristiche di questo libro, i capitoli e la vita quotidiana di questi ragazzi di un secolo fa, un'Italia che era diversa ovviamente da quella attuale, ma che in realtà permetteva ai ragazzi di affrontare le sfide, i dubbi e le ansie che hanno i giovani anche d'oggi. Parlavamo prima di Rita che si aspettava un po' la medaglia di nobile, in realtà il 5 è scienza, ma anche i dubbi a 18 anni con la maturità del liceo femminile in cui lei si doveva preparare a fare la mamma e la madre, cosa che poi in realtà non è accaduta. Esatto, volevo sapere di che anno è quel microscopio, perché Rita era nata nel 1909 mi sembra. Il microscopio di che anno è? Questo risale a inizio novecento, anche perché una caratteristica di questo microscopio che è come forse si può intuire o notare che lo definiamo portatile, perché c'è una scatola con una chiave, il microscopio si chiudeva all'interno e Rita poco distante dagli studi della RAI prendeva al tram la circolare numero uno e andava all'università con il suo microscopio, perché l'università non forniva microscopi, quindi diciamo che le prime esperienze da ricercatrice sono avvenute qui, quindi l'emozione che vorremmo far arrivare ai giovani che leggeranno questo libro e non solo i giovani ma le famiglie è quello di essere curiosi, quello che poi diceva anche lei, lo abbiamo messo anche nel libro, il segreto per la creatività è quello di essere curiosi, la mente deve rimanere bambina, Rita citava Einstein in questa frase e avere sempre gli occhi aperti, che per utilizzare un microscopio direi che è un elemento fondamentale. Perfetto, ma peraltro ancora più importante adesso perché le ragazze che studiano le materie scientifiche non sono moltissime, invece sono sempre in aumento, diciamo che rispetto alle medie di altri paesi sono comunque inferi in modo, quindi non è il manco giusto perché le donne come abbiamo visto sono brevissime, senti ma abbiamo detto, un'altra cosa volevo sapere, è una donna che ha lavorato sempre tantissimo, ha studiato sempre tantissimo, però la cosa che mi ha sorpreso anche è che tu hai raccontato che lei quando viaggiava tu le avresti portato le valigie per aiutarla e lei mai? No, lei rifiutava di farsi aiutare, rifiutava di farsi aiutare in qualunque cosa, anche quando ha perso un po' la vista che anzi c'è stato un periodo in cui ci vedeva molto bene, poi un po' ha recuperato come le aveva detto il medico quando la curava, doveva cercare qualcosa nella borsa, lei con molta pazienza esaminava tutto, toccava tutto quello che c'era nella borsa, non si stancava mai di cercare, non si spazientiva, voleva essere assolutamente autonoma, poi dopo un po' che io vedevo che cercava provavo a chiederle, zia hai bisogno d'aiuto? Allora accettava l'aiuto e diceva sì, sto cercando le pastiglie, le prendevo e diceva come hai fatto? Dico ma io ci vedo, vedo dove sono le pastiglie, era sempre questo suo stupore nel vedere che gli altri potevano aiutarla e anche che gli altri le volevano bene, il come mai era anche alla fine di ogni conferenza quando i ragazzi l'applaudivano, lei diceva ma come, cosa vedranno questi ragazzi in me che sono così vecchia? O come fa questo signore a conoscermi se la fermavano all'aeroporto? Lei era sempre, no, era uno stupore continuo. Grandissimo rigore, grandissimo understatement e poi voglio ricordare per chiudere questa intervista che la famiglia di Rita Levi Montalcini essendo ebrea fu costretta dalle leggi razziali e leggi razziste ad emigrare e poi a rientrare, vivere nascosta a Firenze per evitare ovviamente la deportazione, te l'aveva mai raccontato quel periodo? Me l'ha raccontato di più la mia mamma e il mio papà quel periodo, è stato un periodo molto 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 difficile ovviamente in cui la paura era tutti i minuti, io con moltissima difficoltà sono riuscita a far scrivere un pezzo a mia madre, non l'ha scritto proprio tutto ma ne ha scritto un pezzo raccontando delle cose che prima non mi aveva mai raccontato, cioè come erano in casa di qualcuno da cui avevano affittato e poi scoprivano che questi avevano dei contatti con i tedeschi oppure che li mettevano in pericolo per altri motivi, quindi era un movimento, un continuo muoversi, un continuo spostarsi. E pensate che nonostante questa dura prova della vita Rita non ha mai speso, non si è mai arresa No ma nessuno di loro si è mai arresa. Papà continuava a disegnare e dipingere, papà è riuscito a procurare il mangiare per tutti dipingendo dei quadri degli antenati perché anche durante la guerra con le bombe sulla testa c'erano delle persone che volevano trovare un antenato nobile. E allora andavano da uno di quelli che stendono gli alberi genealogici, lui prendeva la figura della persona che aveva davanti e la trasformava nell'antenato di molti secoli prima. E l'ultima cosa che volevo chiederti è se aveva un difetto Rita, zia Rita? Di telefonarmi alle sei del mattino, tutte le mattine. Per dirti? Per dirmi quello che bisognava fare il giorno dopo o lo stesso giorno o per chiedere un consiglio o per dire che cosa avrei dovuto fare o informarmi. Però non era invasiva, non era invadente. Essendo una donna molto libera immagino che ti abbia sempre lasciato tutti liberi intorno a stella. La cosa più importante che ti ha insegnato? Beh, è un insegnamento di famiglia. Essere, come dire, impegnati in quello che si fa, guardare al futuro, essere ottimisti e non temere le altre persone e soprattutto essere vicino agli altri. Piera, che bella conclusione di intervista. Grazie davvero per averci consegnato questo pezzetto di questa grande italiana, di questa grande donna del mondo. Orgoglio italiano, orgoglio di tutte le donne. Vi ricordo un sogno al microscopio, il viaggio verso il nobile di Tela di Montalcini. Grazie, grazie anche alla vostra fondazione perché so che vediamo anche un'associazione che prepara delle borse di studio che si offrono ai ragazzi che non possono permettersi gli studi. E questo è il modo migliore per conservare e alimentare la memoria di Rita Levi. di Montalcini.